Andiamo a sabbia a fare bordello Oddio ma wow è più lucente la mappa Quando l'apri No no nel gioco no è uguale La mappa Allora sì In game è scuro la mappa è più chiara E finalmente non è il bianco quello che ti affassi dagli occhi Però vedi che c'è tipo una patina di bianco Tipo una patina di nebbia Insomma tipo a Milano Benvenuti a Milano ragazzi Mi sa che non l'ando prima io No 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 Vado alla casa qua allora per forza Eh io non ci sono Sì ma dai ma dai ma dai Entrami col pompa Vediamo se riesco Ma what? No Marco Margarello E se il batte l'epic L'hai nosccato però non è finito vero? No 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 è finito Però c'era l'altro Vai No way No way Non spara più Ha smesso In che senso? In che senso? No come si sparano? Vai vai uno Non si dice no? Oddio ora arrivano tutti quanti Oh no 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 c'è una? c'è l'aggiatura 1v1 e muoio tipo il damage Cioè non è neanche 1v1 Era proprio morto, soccato da sola Allora, tieni La si è tirata, insomma Sì Ma io mi posso muovere? Sì che ti muovere Puoi metterti pure il pompa Già in mano, così te lo tolgono e gli spari subito Cioè tu puoi fare in teoria Cioè c'hai di voi quel delay però Secondo me se te lo spaccano è meglio Basta Voi l'ho finito E giustamente devi inc***** il cecchino Ah ma si ricaricano Non è più come una volta È blu, hanno 5 usi totali, si ricaricano Ti immagini Tipo fai una zona Tipo questa qua si abbia sui dati pieni Tipo pazzi Cioè tutto va nell'infinito spam Tipo arriva uno che non sa nulla Non sai dove ti nascondi Tipo in endgame con l'ultimo Senta che tu? Ah è vero Questo Fai cerca Oddio no way C'è una cassa qua sotto credo Ma com'è possibile? Non era una cassa What? È una cassa che ti dà le cure Però non ho capito cosa era in realtà Era un cesso di potere Un rifrigeratore Ah esatto What? Hai provato a lanciare la palla di neve Ad un player box stato? No Ho provato a lanciare A usare il lancio a granate Contro un player box stato E il nuovo GL è tipo rottissimo Cioè va Non è come prima Che tipo dopo un tot Si detona la bomba Spara subito E spacchi subito Menta avanti a me Poi stanno infiniti A quanto pare Che mira di m***a Me lo push Se puoi prendere like Li faccio cadena No way Guarda Oh Pazzi Portavoli 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 Devo spararvi No Guarda Ok fermo Ora tu gli spari Vedi c'è la palla di neve Ora boxati No way Mi hai hittato Mi hai hittato Guarda Facile Questa roba È rotta Ho tante di danno Sono tanti Metti che c'è un player Che sai che è un bianco E one shot Magari non ha le cure E hai fatto un punto No vabbè Ma la fixeranno questa cosa Cioè non penso che mettere Cioè io Secondo me va proprio tolto Non ha senso Non l'ho buttato qua da me Non l'ho buttato Sì Ma ok Se me l'avessi stilato Un altro tipo Avrei rossicato Che aspettiamo Andiamo a giurare Con i passi di neve Ma no È tantissimo visuale Così Eh hai visto Buono Deve entrare in safe No Devo metterla sulla hack Sta cosa L'ho hitato Ma non era neanche nel mio layer Era nel mio layer sopra Lì dentro Ok L'ho hitato L'ho hitato L'ho hitato L'ho hitato Sono io È giù Sì lo so Oh è la palla di neve Insieme ce l'hai? Aspetta 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 La prendo Vai 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 Sei pronto? Vado Vai Hittato? No Hittato Ma è rotta questa cosa Con il piccone e la one shot Ragazzi È rotta Ma non era neanche nel mio layer Ti ricordi perché ho lanciato granate Quello a pressione Come si chiamava? Te lo ricordi? Ma te è a ricerca Eh È uguale Ma davvero La sua palla di neve È a ricerca Non è che a ricerca Però non devi buttare Non devi buttare Non devi buttare proprio addosso Anche attorno A zona Sì bravo Barca Barca non lo fare Barca Barca Scala No Mi sono girato addosso 80 Non mi si leva Non mi si leva Sto divertendo Sto divertendo Trollevare Non subito Non immediatamente La devono togliere Ora C'è Adesso Oh madonna mia Non sono una rotazione in metallo E accendiamo con le palle Già sto con la palla Sotto di là Ma dove è proprio così? Sì 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 Ho i muri girati Ok Metto un po' di palle qua Barca se vuoi Ma Ma come è possibile? A me non funziona questa cosa A me non funziona No 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 La mano aspetta La Zoe è molto hittata E' l'ultimo Barca Come facciamo? L'esercito L'esercito Oh no Vabbè ragazzi Ok l'ultimo L'ammazziamo così Ok Però la safe non è da noi Quindi dobbiamo portare le palle là Esatto Ok Ma come faccio A giocare in Winter Royale Così ragazzi Come faccio? Spiegatemelo Cioè perché imparare a mirare Col pompe E con la R Sense perfetta Quando puoi usare le palle Voi qua sotto? Guarda 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 Ma dove è? Ma dove è? Eccolo Barca barca E' lì Vediamo se arriva Aspetta Ah posso mirare comunque Sì sì Ottanta Vado Te la avvicino Tieni E te la butto giù Eccato? Dove è andata? Vado 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 Ma è rotta! Questa co Epic 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 Devi fixare questa cosa adesso Epic Guardami bene Devi fixare questa Dovete fixare questa cosa Ora Perché non ha senso di esistere Non ha senso di esistere No Non l'accetto Non l'accetto Cioè Non l'accetto